Ecco l'ingresso in campo delle due formazioni, Virtus Castel Frentano con la classica maglia giallorossa e la Val di Sangro con la classica maglia bianco-azzurra. Il direttore di gare, signor Pitucci Marco della sezione Aia di Chiedi, che saluta subito. Adesso c'è il sorteggio tra campo e pallone. Ecco Teddy, tutti quanti, gli spari e pari. Scambiano i saluti, adesso vanno nelle panchine opposte. Ah, chi c'è? Un minuto di raccoglimento? Sì. 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 Ok... In Bocca al Lupo!